È venuto a mancare questa mattina alle 9.55, presso l'ospedale civico di Palermo. L'ex calciatore, simbolo delle notti magiche d'Italia 90. Il 59enne, ricoverato dal 7 settembre nel reparto di pneumologia del nosocomio palermitano, lottava da tempo contro un tumore al colon. Nonostante un apparente miglioramento registrato nei giorni scorsi, le sue condizioni si sono rapidamente aggravate nella notte, lasciando presagire un epilogo tragico. Già nella serata di ieri, i medici avevano parlato di un sensibile peggioramento del quadro clinico. La notizia della sua morte ha scosso profondamente il mondo dello sport e i tanti tifosi che lo avevano amato per le sue imprese sul campo. Con la nazionale italiana, Schillaci aveva regalato emozioni indimenticabili durante i mondiali del 1990, lasciando un segno indelebile nella storia del calcio italiano. La sua lunga battaglia contro la malattia è stata seguita con grande partecipazione da parte di fan e colleghi, che ora si uniscono al dolore dei familiari. L'Italia perde non solo un campione, ma anche un uomo che ha affrontato con coraggio una sfida difficile, proprio come aveva fatto sul rettangolo verde durante la sua carriera.